Io lo so come è andata, avete finito di assemblare il vostro ultimo PC e subito dopo averlo acceso qual è stata la cosa che avete voluto di più in assoluto? Massimizzare, spremere ogni singolo FPS e non sapendolo fare dove siete finiti? Su YouTube, dove è pieno di questi contenuti di fantomatici YouTuber che professano questa grande capacità di portare i vostri FPS da 60 a 360, come se praticamente il vostro PC di base sia un completo idiota e grazie ai loro servizi sarete in grado di fare magie. Una serie di video che devo dire è da anni, che circolano è da anni, analizzo perché effettivamente essendo un canale hardware anche tra i più grandi in Italia mi viene il dubbio, sto mancando di dare qualcosa al mio pubblico? C'è qualcuno che ha questa soluzione per portare gli FPS ad un livello assurdo e io la ignoro? Ecco, mi sono messo ad analizzare tutti questi video e il risultato è stato che ho trovato 7-8 impostazioni che vengono sempre ripetute all'interno di questi contenuti e che a quanto pare sono la vera fonte degli FPS. In questo video andremo ad analizzarli uno per uno, una cosa che effettivamente in tutti questi contenuti manca, un'analisi dei reali risultati di ogni singola impostazione. E abbiamo fatto anche un pochettino di lavoro particolare. Come al solito l'unica cosa che vi chiedo è un like, un'iscrizione e un commento se volete magari supportare questa serie di video. Per esempio fatemi sapere giù nei commenti se avete mai visto questi video e come li ritenete. Magari per voi sono stati miracolosi, però in questo contenuto vedremo un po' di cose. Però ragazzi, prima di iniziare tutta questa disanima, secondo me è importante mettere in chiaro una cosa. Se volete massimizzare i vostri FPS con un solo clic, il modo migliore è utilizzare le tecnologie di upscaling. Sono delle tecnologie super interessanti e sono implementate su tantissimi giochi. Quello che secondo me è il più interessante in assoluto è chiaramente il DLSS. Arrivato alla versione 3.7, per utilizzarla però vi servirà una RTX 40, come questa GeForce RTX 4080 Super, che trovate all'interno di questo PC bianco assemblato da Next. Se vi piace potete comprarlo direttamente assemblato, testato e spedito da loro, ad un prezzo che devo dire è anche piuttosto invitante per le cose che monta. Pensato per i gamer e per i creator, ci trovate dentro anche un 7900X 3D, quindi 12 core, con però la tecnologia 3DV Cache che massimizza anche il contesto del gaming. E se a questo ci aggiungete 32GB di RAM da 6000MHz e 16GB di VRAM della RTX 4080 Super, potete stare tranquilli sia nell'ambito della produttività che in quello del gaming, per gli anni a venire, anche in 4K, soprattutto se utilizzate il DLSS 3. Io vi straconsiglio di provare in particolare la funzione di Ray Reconstruction, perché veramente fa una differenza sostanziale se siete amanti del contesto del ray tracing. Veramente molto interessante. Video editing, gaming, streaming, tutto quello che potreste voler fare con un PC, lo potete fare con questo. E vi arriva già preassemblato e soprattutto con un cable management fatto benissimo. Non dovrete fare neanche un minuto di cable management, questo è il vantaggio principale di un preassemblato. Se vi piace, trovate il link per questo PC giù in descrizione, pronto da acquistare e da spedire. Ok, adesso parsiamo a parlare un pochettino di quelle che sono le impostazioni effettive che possono influenzare positivamente o negativamente il nostro PC una volta assemblato. Ora, nella moltitudine di video che trattano questo argomento ce ne sono alcuni che sono perennemente ripetuti. Ma secondo me una cosa fondamentale viene detta poco spesso, ovvero di creare un punto di ripristino in Windows prima di maneggiare con qualsiasi cosa. Non per altro, ma perché magari le impostazioni che andrete a toccare in base a quanto profonda è la guida potrebbero danneggiare o comunque rendere inutilizzabili alcune porzioni di Windows o dei giochi che vi piacciono. Pertanto, prima di iniziare, create un punto di ripristino così siete sicuri che in caso di casino potete tornare indietro senza problemi. Quindi le impostazioni elencate principalmente all'interno di questi video sono Core Isolation, PBO oppure MCE o TVB nel caso di Intel, XMP, Resize Bar, GPU Scheduling, Game Mod di Windows e le impostazioni di risparmio energetico di Windows. Come vi dicevo prima, però, nessuno si prende la briga di fare un test man mano che spiegano queste impostazioni facendo vedere le differenze una volta che attivano ogni singola cosa. Perché? Perché alla fine utilizza in realtà altre cose per aumentare gli FPS e fanno finta che siano state quelle. Tipo l'upscaling di prima. Ho eseguito dei test per quanto riguarda queste impostazioni con una build che annovera un Ryzen 5 7600. Perché? Perché volevo che non fosse un processore troppo potente in quanto effettivamente questo potrebbe influenzare negativamente i risultati, dando nessun risultato fondamentalmente, nessun beneficio da queste impostazioni. Dovete capire che per questo tipo di cose più è alto il carico del processore, maggiore sarà il beneficio di queste cose, in quanto si va più che altro a ridurre quello che è appunto il carico della nostra CPU. Esattamente come fanno nei video a cui ci stiamo riferendo, le impostazioni le andiamo ad attivare una alla volta. Quindi prima per esempio avremo l'impostazione 1, poi la 1 e la 2, poi la 1, la 2 e la 3 e così via fino alla fine. La nostra build di base parte con tutto disattivato, soltanto la Core Isolation rimane attivata, ma perché l'effetto negativo questa impostazione in particolare ce l'ha solo nel caso in cui appunto si attiva. È un'impostazione di sicurezza di Windows, in realtà dovremmo lasciarla attiva, però abbiamo fatto tutti i test. Nella parte iniziale abbiamo quindi un Hitman in 1080p con 274 fps e 164 all'1%, accompagnato da Fortnite con 124 fps e 98, tutto in 1080p senza upscaling. La prima impostazione che andiamo ad attivare è il Precision Boost Overdrive, perché in questo caso stiamo valutando l'esperienza su AMD, ma dovrebbe essere molto simile tra Intel AMD. Come potete vedere il beneficio di attivare soltanto il PBO non è tanto alto, nel senso che il processore effettivamente anche senza di esso non perde grandi prestazioni. Abbiamo un piccolo beneficio per quanto riguarda il 1% Low, ma per il resto siamo veramente molto vicini a prima. Ovviamente oltre al PBO la prima cosa che vogliamo andare ad attivare all'interno del nostro BIOS è chiaramente l'impostazione del XMP, ovvero semplicemente portare le RAM da quella che è la frequenza basilare JEDEC, tipo 4800 MHz nel caso per esempio delle RAM DDR5, a quella che invece è rappresentata sulla confezione, in questo caso per esempio con AMD utilizziamo 6000 MHz. L'impatto dell'XMP è una cosa molto variabile. Se prendiamo i test che abbiamo fatto qualche tempo fa, in un contesto il più positivo possibile comunque le differenze sono abbastanza marginali ancora nel mondo delle DDR5, tra frequenze più alte e frequenze più basse. Però effettivamente qualche differenza c'è. In base al titolo, risoluzione, processore o presenza o meno della 3D vCache per esempio, possiamo ottenere o meno dei risultati diversi. Per quanto riguarda il nostro 7600, la differenza c'è effettivamente dall'attivare o meno l'XMP, però come potete vedere a livello esperienziale non è che ci cambi molto, nel senso per esempio Fortnite passa da 125 a 128 FPS e da 100 a 103 per quanto riguarda il 1% Low. C'è un beneficio più che altro sostanziale nell'ambito del 1% Low per quanto riguarda Hitman, che sicuramente avendo un pochettino più FPS da sviluppare, torchiava un pochettino di più il nostro processore. E l'XMP aiuta sotto questo punto di vista. Un'altra impostazione che vi dico spesso essere importante per il contesto prestazionale è la resize bar. Principalmente in realtà dipende un pochettino, perché ci possono essere dei benefici come no. Dipende dalla scheda video, dipende dal contesto, dalla risoluzione e da tantissime altre cose. Per esempio Intel senza la resize bar performa notevolmente peggio che ad averla, ma nel caso per esempio in cui siamo noi, quindi con un 7600 accompagnato da una 4090 per vedere il massimo dei suoi FPS e il massimo del suo sforzo disponibile, la differenza sostanziale non c'è. Quindi vuol dire che in realtà con tutte le Rx40 questa cosa potrebbe avvenire, perché alla fine la tecnologia si approccia allo stesso modo, cambia soltanto il numero di FPS. Se facciamo 10 FPS in più su 300 non ci cambia molto, esattamente come a farne 2 su 60. E la resize bar conferma questa cosa, infatti abbiamo soltanto un FPS di differenza con Hitman e esattamente la stessa identica situazione leggerissimamente migliora il contesto del 1% low invece, sempre in 1080p. Successivamente c'è un'impostazione che di recente negli ultimi due o tre lanci Nvidia suggerisce di attivare quando facciamo le nostre recensioni e devo dire che finalmente c'è qualcosa di un po' più incisivo in questo. Sto parlando del GPU scheduling, si attiva semplicemente con un click in Windows, dalle impostazioni avanzate. E per quanto riguarda questo contesto effettivamente il miglioramento che ci dà è importante, in quanto dal risultato precedente aumentiamo di 9 FPS per esempio su Hitman e migliora anche la situazione del 1% low. Stessa situazione in Fortnite che guadagna ben 7 FPS su 128, cosa che ovviamente rappresenta comunque un gradino percentuale extra, anche se comunque a livello esperienziale tra 128 e 135 non noteremo grande differenza. Oltre a questo posso dire che Fortnite negli ultimi anni è diventato un po' mattone da quando ha cambiato motore grafico, cioè ai miei tempi, quando ci giocavo con l'8700G per pari video, diciamo che le impostazioni massime erano notevolmente più clementi per l'hardware, invece adesso veramente sono tanto 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 pesanti sul processore. Oltretutto a fine video vi svelo due cosine che ho notato e che secondo me sono molto più incisive di tutte queste impostazioni. Se andiamo avanti nella nostra scaletta delle impostazioni che sembrano essere vitali, troviamo la Game Mode di Windows. Oh no, la Game Mode di Windows. Praticamente quella che spacciano essere la modalità gaming che sembra cambiare tutto proprio dal giorno alla notte per un sistema qualsiasi. Fantastico, Game Mode, dovete averla attivata se no esplode il mondo. E infatti l'incredibile incremento prestazionale derivato dalla presenza o meno della Game Mode ci toglie un FPS in Fortnite. Grazie Game Mode, molto avvincente, bello. Sapete secondo me perché qui la Game Mode non ha influenzato più di tanto? Perché la mia test bench è troppo pulita. Essendo tale non ha grandi programmi di background. Probabilmente in un sistema in cui ci sia in background tanta roba, Rain Meter, Wallpaper Engine, Discord e tutte queste cose, la Game Mode andando a priorizzare il sistema per il gioco effettivamente potrebbe dare dei risultati migliori. Nel nostro contesto non ci dà niente. Cioè se avete un PC pulito probabilmente non noterete differenze. Se avete un PC più vecchio probabilmente qualcosina ve la darà. Nel nostro caso però, siccome volevo mettere un contesto realistico per chi assembla un PC oggi, non noterete granché. Altro aspetto che trovo veramente molto interessante è quello della Core Isolation che è una misura di sicurezza presente in Windows e che ho visto lodare moltissimo in alcuni video. Per esempio mi ricordo quello di Ancient Gameplays in cui faceva vedere dei benefici, devo dire, veramente molto interessanti attivando o meno questa impostazione. Tant'è che suggeriva di farla a tutti quanti. Devo dire che però, nuovamente, mi trovo in disaccordo ma semplicemente per un motivo. Molto probabilmente il sistema specifico che viene utilizzato in quel caso ha dei benefici. Ma se prendete un 7600 e lo lasciate massimizzato nelle sue possibilità, la Core Isolation, come potete vedere, non porterà a un incremento significativo. Siamo sempre agli stessi FPS sia su Hitman che su Fortnite, un leggero incremento di 2 in questo caso, e con un 1% low leggermente migliore. In questo caso c'è un beneficio, perché comunque da 103 a 108 FPS è un aumento percentuale sopra l'errore, che considereremmo intorno al 2-3%. Però di per sé non rappresenta altro che, probabilmente, una leggera scarica di vita al processore che lo aiuta a togliere un pochettino di impegno e quindi riesce a gestire meglio il carico del gioco. Tutto qua. Stattera meno. Infine arriviamo a quella che è probabilmente l'opzione più abusata in assoluto in questi video. Nessuno sa perché, ma dovete mettere prestazioni elevate, sennò il vostro PC fa schifo. Quanto pare fate 360 FPS in più se lo fa. Ma devo essere onesto con voi, ragazzi. Io già dai tempi delle GTX 700 questa cosa la facevo perché tutti ti dicevano di farla, ma non ho mai notato benefici. Perché? Perché il PC è già capace di capire dove deve utilizzare le prestazioni massime. Se tu gli apri un gioco davanti, lui performa, perché sa che quel carico vada prioritarizzato. È normale. È il funzionamento basilare di Windows. Non è che perché avete Discord aperto in background magicamente il vostro gioco andrà molto peggio, a meno che non mettiate le prestazioni massime. E infatti in un sistema pulito potete notare come effettivamente non ci siano praticamente differenze tra prima e dopo. Abbiamo perso 2 FPS per quanto riguarda il contesto di Fortnite, nel 1% low, ma per il resto è completamente inutile. Dove può essere utile però questa impostazione? Nei laptop. Perché può capitare che quando andate a batteria, il laptop si imponga e metta un risparmio energetico che riduca le prestazioni. Semplicemente perché vuole massimizzare la batteria. Tutto qua. Quindi di per sé mettere le prestazioni elevate gli permette di dire ok, allora, chi mi sta utilizzando vuole che vada al massimo. Consumerò la batteria brutalmente, ma lo faccio. In quel caso può essere utile, ma in ogni altro contesto, molto probabilmente su un desktop, non noterete differenze. A meno che non sussista nuovamente qualche condizione particolare. Arrivati a questo punto, facciamo un confronto tra prima e dopo tutte queste impostazioni. Siamo partiti da 274 FPS e 164 1% low su Hitman e 124 FPS e 98 nel 1% low su Fortnite, in 1080p, con il nostro 7600 maxato con una 4090, al massimo delle sue possibili prestazioni. Arrivati in fondo, effettivamente degli FPS li abbiamo guadagnati, ragazzi. E attivando tutte queste impostazioni, chi più, chi meno, hanno contribuito a portare Hitman a 290 FPS e 187 per il contesto del 1% low e Fortnite a 136 e 106 FPS per il contesto del 1% low. Effettivamente un beneficio c'è stato, ragazzi, perché comunque tutte queste impostazioni ci hanno portato da 124 a 136 FPS su Fortnite, per esempio, e questo vuol dire che è un 10% di miglioramento, semplicemente smanettando su un pochino di cose. Però ovviamente non tutte queste impostazioni hanno dato beneficio a questo numero, a questa somma che abbiamo ottenuto. Alcune più, alcune meno. Però io vi voglio dire tre cose che secondo me sono importantissime da valutare in questo contesto. Ho eseguito questi stessi test con una configurazione un po' più top di gamma, nel senso che ho messo un 7950 X3D e la 4090 insieme, in 4K. In quel caso, il beneficio è stato di 1 FPS totale. Letteralmente, non è cambiato quasi niente. Da attivare tutto a disattivare tutto. Perché? Perché queste impostazioni hanno principalmente un beneficio nel contesto in cui il nostro processore un pochettino fatichi, un pochettino si è aggravato da quella che è la situazione in cui lo stiamo utilizzando. Al tempo stesso, un'altra cosa che ho notato e che secondo me è molto importante, è che semplicemente utilizzando upscaling e rimodulando leggermente, ma dico proprio leggermente, le impostazioni in gioco, ottengo dei risultati nettamente più interessanti. Vi faccio un esempio pratico. Fortnite in 1080p con il nostro 7600 da epico ad alto passa da tipo 120 a circa 170-180 fps. C'è un recupero veramente molto importante tra le due impostazioni, senza perdere poi tanto in termini grafici. Al tempo stesso, se vado a utilizzare il DLSS in versione performance o qualità in base a quanto voglio deteriorare l'immagine, otterrò dei benefici fino al 70-80% in più. Cosa che ovviamente vuol dire che praticamente potete ottenere 7-8 volte quello che invece avreste con queste impostazioni. Ovviamente ragazzi c'è da dire anche una cosa. Posso attivare e ottimizzare tutte queste cose che abbiamo visto, che daranno il loro piccolo contributo o più grande in base alla situazione. E poi posso utilizzare sia il DLSS, FSR e tutte le altre tecnologie, più ovviamente rimodulare anche le impostazioni grafiche. In quel caso otterrò qualcosa di sensibilmente migliore. Ma in ogni altro contesto dovete valutare che solo con build veramente, veramente scarse, otterrete dei benefici assurdi come quelli mostrati nelle copertine di questi benedetti video nel utilizzare o meno queste impostazioni. Ovviamente, magari a qualcuno daranno anche un 20%, un 25%, ma il vostro PC deve essere talmente messo male, malconcio, che molto probabilmente anche soltanto una formatazione potrebbe dare dei benefici importanti. Quindi iniziate a valutare un po' tutto a 360 gradi. Non solo quello che vi splattella in faccia panino o questi altri canali che fanno 27.000 video su ottimizzare il PC come se... Raga, oggettivamente, se ci fosse un metodo così geniale di farlo, ci farei 40 video. Cioè, pensate alle visualizzazioni che farei. Sarei il primo in Italia a fare dei video del genere. È pazzesco. Quando invece ci sono delle impostazioni molto più semplici che permettono di fare tanti, tanti, tanti più FPS con un click, zero rischi e soprattutto senza impelagarsi in 40 impostazioni di Windows. E con modo. Ad ogni modo, per questo video è tutto. Io vorrei sapere ovviamente la vostra opinione giù nei commenti. Fatemi sapere cosa ne pensate. E noi ci vediamo al prossimo video. Come stati su Modern Tech? Salusa!